Con me deduciamo un linguaggio moderato. Ma inquadriamo il nostro cofanetto. Vale 10 milioni e 15 cavati. Beati voi se trovate questa linea lì. Ma c'era sbagliato un pezzo di un anello. E allora? Dito Ielli proprio. Ma non ne capite proprio nulla. Sono 10-12 milioni di topazzi azzurri. Se vi dicono per sbaglio, per carità, vi dovessero mai dire 2 milioni e 9 per le due paruma. Provateci. Per fare un affare sareste disposto a spendere almeno 3 milioni. Io vi dico 1 milione e 200 mila lire. Ha poco più di 2 milioni e 9, ho 3 milioni e tu stai dormendo guardandomi. Svegliati. Poi se ne vada, se ne vada, via. Per favore, voi degli studi. Per fare un disastro, che cosa paghereste questa pausa? 20 milioni. No. A 990 mila. Prova ad averla per una carruppa. Gliela regalo anche questa busta, è compresa nel pezzo. È una cassina, noi ci teniamo dei piedi pesciosi qui dentro. Oh, che miseria, il momento ci andava, avete visto? Per un milione e mezzo, compresa anche questa gattina. Ma sì, anche questo da posto, guarda qua che roba. A 2 milioni, scrivi. Non si perde la faccia. Guarda contro il mondo. La mia parola è... 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 È 980 mila. Brillante, quasi trasparente, viva! Guai se cambiate canale, guai. Guai a voi, guai a voi se non mi chiamate. Muso, con la sua faccia viene qui e dice le parole che merita. Alzatela di 50 mila. 2 milioni anche a cogliere. Datemi solo l'oro, datemi solamente un po' di spese pubblicitarie, ve la regalo. Mi fate piacere. Tutte 6 a 2 milioni. Ve li porto io. Telefonate. I italiani, muovetevi. Fermi, fermatevi. Sono mica matto. A 2 milioni, ciao, ciao. Non vi do nulla. A buttare via realizziamo 4-5 milioni subito. Provateci, nella vita bisogna provarci. Amici, quasi pure, ma ne... Vete delle miniere del faraone? 10, madonna. E poi ho detto che 980 mila rimane 980 mila. Ve lo chiedo per cortesia. Metti il numero che li regalo. Subito. Potete aprire una gioielleria. Ma la vedi? Se non lo scrive. Ma l'hai capito che vale 20 milioni, l'hai capito? Ma sì, ma ci siamo capiti. Non ve lo posso dare a 3 milioni e 6. No, non ce ne vada. Ciao, ciao, devo andare, devo andare.